L'apertura del mese dedicato all'educazione finanziaria vede Pordenone come Bologna impegnata con una fitta serie di appuntamenti. Già l'anno scorso Pordenone si era dedicata alla realizzazione di un programma divulgativo che coinvolgesse le persone comuni, coloro le quali vogliono capire meglio ciò che quotidianamente sentono sui telegiornali, nelle televisioni, sulla stampa. Ormai economia e finanza non sono più aspetti di argomenti dedicati esclusivamente agli addetti ai lavori e gli esperti ma coinvolgono la nostra vita quotidiana. Sapere come funziona la previdenza, cos'è lo spread, come ci si deve rivolgere per fare un mutuo, cosa può essere opportuno e cosa invece è pericoloso. Tutti aspetti ripeto che una volta potevano essere appannaggio esclusivo di chi lavorava nel mondo bancario, finanziario e economico ma che oggi invece riguardano una massa enorme di cittadini. L'abbiamo fatto attraverso una serie di conferenze di appuntamenti di diverso livello. Quest'anno verrà arricchito anche da una serie di proposte più originali come le botteghe del sapere, organizzate in collaborazione con l'Università di Udine, il Consorzio Universitario di Pordenone, il Circolo Culturale Eureka. Negozi e attività commerciali della nostra città verranno occupate da professori universitari ed esperti che si dedicheranno ai clienti e agli ospiti proprio per parlare di questi argomenti.